Dramma questa mattina tra Agropoli e Capaccio Pestum nei pressi della foce del fiume Solofrone. Un pescatore di Agropoli, Massimo Pisciottano, da tutti chiamato Simone, di circa 70 anni, è stato trovato morto in mare senza abiti vicino alla sua imbarcazione, appeso coi piedi legati allo scalmo e la testa nell'acqua che toccava l'elica. Da comprendere la dinamica dell'accaduto, diverse le ipotesi, forse l'uomo è rimasto coinvolto in un incidente provocato dal rullo per la posa delle reti o è inciampato tra le funi, potrebbe aver anche avuto un improvviso malore. Massimo Pisciottano aveva appena ritirato le reti sul posto per le indagini sul caso, la guardia costiera di Agropoli e i carabinieri della locale compagnia, presenti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per il recupero del corpo e alcuni pescatori immediatamente accorsi in zona. Al medico legale il compito di esaminare il cadavere e stabilire le cause del decesso. Soltanto pochi giorni fa un'altra tragedia si è verificata in mare a poca distanza, in quel caso a perdere la vita Eustachio Sorvillo, subprofessionista, intervenuto per recuperare la rete di alcuni pescatori che era rimasta impigliata sui fondali.